Io sono Tello Cenci e ho curato la regia di Padre e Figlio, spettacolo del Meeting di Rimini. È uno spettacolo scritto insieme a Fabrizio Sinisi per immedesimarci in personaggi dell'Antico Testamento, in Isacco, Giacobbe e Caino in particolare, indagando il loro rapporto come figli e come genitori, stimolati dal titolo di quest'anno del Meeting di Rimini. Allora scopri che è proprio vero quello che tu ripetevi, in buona fede ma forse con troppa leggerezza. Guarda che tuo figlio non è come te e tu non sei lui. Ciò che in lui è maturato, ci è instillato, costruito, non dipende da te. Abbiamo avuto la fortuna di avere la disponibilità di Massimo Popolizio, che sarà protagonista di questo racconto, di questo percorso letterario, accompagnato sulla scena da una band di musica Klezmer e da Massimo Ottoni, che illustrerà i paesaggi e alcuni particolari di questo viaggio. Morire per te, morire perché tu finalmente mi guardassi per quello che ero, non l'altro, ma io, Caino, io, ho bisogno d'amore io, quanto lui. E ucciderlo mi renderà forse così misero ai tuoi occhi che mi aimerai di più. Uno spettacolo, un recital che indaga in maniera delicata e curiosa quello che può essere la riscoperta della tradizione, considerando questi personaggi persone vive, persone umane, e quindi con tutte quelle che sono le nostre passioni, umane passioni, difetti e difficoltà. Grazie.